Mi avevano detto che non c'era nulla là fuori, nulla da temere, ma la notte in cui i miei turi furono assassinati, io intravidi qualcosa. Da allora l'ho sempre cercata. Sono andato per il mondo, ho frugato tra le ombre e c'era qualcosa là fuori nell'oscurità. Qualcosa di terribile, qualcosa che non si fermerà finché non si sarà vendicata. Dimmi.